evasione fiscale allora sono a malè giorni fa in un negozio un piccolo despar e entra dentro due ragazzi se lei non ha fatto lo scontrino fiscale ma dice a chi a quel signore che c'è fuori dice ha comperato mi pare un non so che cos'era valore un euro e 90 allora torna trova dallo scontrino che era lì e tutto si risolve giorni fa sono torno vado alla porta attorno dalla porta e vedo che ci sono due giovanotti che fermano un noto sacerdote di arco molto molto anziano e molto mal andato e dice scusi lei è stato al caffè lo scontrino lo scontrino da cosa e dice ma cosa ha preso ho preso un caffè e c'è lo scontrino avrò lasciato lì premetto che questo sacerdote ha problemi vabbè tornano indietro col sacerdote vanno dentro lo scontrino era sul banco lasciato lì allora mi sono domandato ma quel dialogo che io ho avuto con un mio collega di francoforte quando mio figlio lavorava in quella farmacia francoforte ma avevo sentito delle cose giuste o delle cose sbagliate allora vi riferisco quanto avviene perché qui da noi siamo in uno stato di polizia perché questa finanza che viene controlla stai lavorando magari in farmacia sei tu solo arrivano siamo guardi finanze dobbiamo cosa mentre stai lavorando tra un cliente l'altro e fai vedere le scartoffie poi torni di ritorno è qualcosa che questa gente che ferma una per strada e domanda lo scontrino da sa tanto di borbonico di stato di politica bene noi torniamo al mio collega di francoforte sapete come viene a francoforte a francoforte arriva una lettera raccomandata al signor carlo tamanini farmacista in arco il quale per il giorno 3 di novembre deve preparare tutti i suoi incartamenti e con il suo commercialista trovarsi all'ufficio dell'imposto per il quale dovrà dimostrare che quanto lui ha dichiarato corrisponde al vero è pregato di portare tutta la documentazione viene mandata venti giorni prima perché danno tempo al cittadino considerato cittadino e no sporco evasore fiscale perché questa è la mentalità ormai che gira e deve portare ma dico vi pensate a questo sistema faraoni costia questa questa questi guardia di finanza che vengono a vedere questo sporco farmacista che certamente vade a quel povero porco artigiano che certamente vade ma santo paradiso ma io mi domando come si fa a levare il nero a me che l'ho detto più di una volta come si fa a levare il nero o che sono cretino mi o che cretini qui dell'agenzia delle entrate di tutti i ministri vado a fare una riparazione 900 euro fattura fattura 1.80 euro o 1.80 euro perché ho 22 non ricordo 1.80 e dico e senza fattura al 900 e no giovanotto no e no perché se io ti do 900 tu non li denunci e quindi te che guadagni sulle tasse non è giusto che guadagni tu solo sarà giusto che guadagni anche beh beh dottor senti lì a fare tante storie mi darà 850 ma sei bravo 800 allora mi domando ho risparmiato 180 400 fa 80 il cittadino a un certo momento fa ragionamento se il gol gaschicchi cretino vada dove guadagna ma perché non ci lasciano detrarre tutte le spese e l'affitto dell'appartamento e la luce e la donna di servizio è tutto quello che segue perché vai in albergo allora vi racconto un particolare per parecchi anni ho diretto il circo della vela di torbole non come presidente ma come direttore di sede bene veniva un certo dottor dal santo che purtroppo è andato da un'altra parte e lui era anestesista a detroit e si parlava un certo momento di tassi noi detraiamo tutto come tutto almeno detraiamo anche il caffè adesso siamo qua in villeggiatura tutte le spese che ho in alberghi o cose di questo genere io le posso detrarre ma perché questo sistema non viene trovato ma risposta se facciamo una cosa del genere in italia c'è un'inità tutti che mette dentro fatture false dico ragazzi ci sarà un sistema per uscire ma non è certo il sistema di avere della gente che ti ferma fuori la strada a un certo momento sono stato fermato anch'io tempo fa ma veramente non avevo preso niente ma mi era venuta la voglia di dire ma scusi lei c'ha il mandato di perquisizione perché quando si viene sulle mie tasche o si entra a casa mia ci vorrebbe un mandato di perquisizione allora come può uno autorizzarsi di domandarmi se c'ho lo scontrino o non c'ho lo scontrino questi sono affari miei come cittadino allora siamo in uno stato di polizia dove dove cosa il meccanismo diabolico che penso io un poveretto del sud o di altre parti perché adesso ci sono anche del nord che vanno nella guardia di finanza e che a un certo momento da un povero operaio da una famiglia qualunque viene investito di questa autorità sono della guardia di finanza mi dia lo scontrino di un euro e 90 lei come mai non c'ha lo scontrino c'è una specie di rivalza nei confronti delle persone che hanno potere da parte di persone che non hanno potere questo è secondo il mio parere il meccanismo che c'è nella polizia e nella guardia di finanza c'è una certa dire beh adesso ragazza mia fino a degli eriti che ha il potere ti mia ragione la plebe adesso se ti permetti mi sono nella polizia nei carabinieri nella guardia di finanza adesso il coltello per il mane che è il gomì e ti te me fai vedere lo scontrino ecco questa è una mentalità che mi piacerebbe fosse eliminata mi piacerebbe ricevere una bella raccomandata e poi e poi ma ditemi un artigiano che ha un utile di centomila euro ma vi sembra possibile che di questi centomila euro 60 al deva dargli allo stato e non gli rendono conto di niente perché le tasse che uno paga non è che ci sia lo stato dice guarda che io i soldi che tu mi hai dato io ho spesi bene perché la benzina che ad opera i carabinieri così non ci sono tre corpi ma ce n'è uno solo ma guarda che tu ricevi un servizio così colì e colà colà cioè il cittadino dice io mi sacrifico ma vorrei avere una corrispondizione del mio sacrificio perché fino a proprio contraria artigiani professionisti eccetera non è che i soldi li guadagano dando un calcio al primo sasso che trovano per la strada sono sudati quei soldi sono sudati ed è una vergogna secondo il mio parere che si usi questo metro nei confronti dei cittadini porchi evasori fiscali tutte le trasmissioni televisive l'evasione fiscale di chi l'evasione fiscale per forza e la gente evade quando sa che dai soldi a gente che li sperpera quando sa che i soldi che lui ha guadagnato onestamente vengono sperperati a fare le caserme dei pompieri di qua e di là per il trentino a pagarsi le 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 come si chiama mi aiuti gas cosa si chiama le pensioni ma un altro nome che quel che è in discussione ma ragazzi bisogna pensare che il popolo non è fatto solamente di dottori ingegneri avvocati eh commerciati è fatto anche di popolo di pensionati io credo che su 60 milioni di abitanti molti degli abitanti e diciamo 50 milioni di abitanti è gente normale è gente normale gente che vive di pensione che arriva a fine mese a stento e questa gente qua i vitalizi bravo mi suggerisce galas adesso i vitalizi i vitalizi sono una cosa scandalosa tutta questa gente che prende stipendi folli guardate in farmacia veramente io vi assicuro che ho il metro di questa situazione perché spesso mi capita gente che non ha i soldi non ha i soldi da pagare l'affitto non ha i soldi da pagare la luce a fine mese e mi domandano ma dottor è la giusta che mi sono chi che tiro la careta è quella che non fa un cazzo come diceva nella termissione prima e ciappa 6 mila 7 mila euro al mese certi direttori sanitari che ciappa 8 mila euro al mese ma dove dove sta scritto e mi ha di sicuro per la stanza ma dottor rossa ma lui non è mica liberale non è più liberale perché ma lui parla da comunista se sarò comunista sarà comunista meglio che le robe che si somiglia i nostri contadini diceva che le robe le si deve somigliare bisogna che le si somiglia chi non le si somiglia proprio per niente c'è un abisso che è intollerabile grazie vado basta